Musica Seconda giornata di Casa Clima a Bolzano, ottava edizione. Si parla della tematica dell'abitare e della necessità di coniugare da un lato sostenibilità, dall'altra comfort. E proprio di questo ha parlato Chiara Tonelli dell'Università Roma 3, che coordina il progetto Made in Italy, occupandosi di biocasa in condizioni climatiche estreme. Lei ha parlato anche di Solar Decathlon, una competizione che, pensate, testa le case, case che vengono costruite in dieci giorni. Che progetto avete presentato? Abbiamo presentato un progetto che già dal nome evoca quello che erano poi i suoi obiettivi, Made in Italy, cioè una casa per il Mediterraneo, che porta nella vetrina internazionale del concorso la capacità di fare delle industrie italiane. Ecco, proprio sul vostro progetto, avete detto che servivano delle case molto particolari. Lei prima ce l'ha illustrato. Ci dice qualcosa? Allora, la nostra casa è una casa che risponde alle esigenze del Mediterraneo e quindi si protegge principalmente dal caldo. Quindi non è un clima estrema, è un clima a cui siamo abituati tutti i giorni, ma in realtà abbiamo perso un po' la capacità di fare questo nelle nostre case. Quindi noi abbiamo creato una casa riprendendo la tipologia tipica della casa a patio tradizionale. L'abbiamo creata però utilizzando il legno, quindi utilizzando una tecnologia che di solito si riferisce di più alle baite che non alle case del sud del Mediterraneo. Dimenticando però quella che era una tradizione etrusca e tutta una tradizione nomade che esisteva all'interno del nostro mare. E quindi abbiamo recuperato il legno da un lato, i tessuti che facevano parte della tradizione nomade dall'altro. Abbiamo recuperato allo stesso tempo la capacità di fare massa inerziale, cioè di accumulare il calore in eccesso all'interno dell'abitazione, dentro le masse murari e in pietra tipiche della nostra tradizione. E questo l'abbiamo fatto però attraverso uno strato di sabbia che va nell'intercapedine all'interno della casa e che ha funzionato benissimo nei test in prova quando abbiamo portato la casa a Madrid, dove in realtà pur avendo gli impianti non funzionanti la casa è riuscita a garantire le prestazioni che le erano richieste. Ecco un altro progetto che è stato fatto sempre da loro si chiama Rome for Density. Si parla dell'abitabilità di una città ad alta densità come quella di Roma. Allora sentiamo di che si tratta. Si tratta di una nuova partecipazione a una nuova competizione Solar Decathlon che sarà a giugno del 2014 a Versailles, a Parigi. In questo caso noi puntiamo a creare delle cellule pluripiano, 3-4 piani, in cui porteremo in gara soltanto un modulo, un piano di questo edificio più grande, però una cellula che densifica la città, densifica la città di Roma per la quale nasce e la densifica energizzandola anche perché è una casa che punteremo a fare ad altissima efficienza energetica, quindi che non consumerà e quindi quella energia che riuscirà a produrre grazie all'energia solare la cederà agli edifici circostanti.